di 26 milioni di euro e prima di salutarvi vi proponiamo le immagini di un tartufo da record il più grande trovato nel 2008, lo vedete, pensate pesa 1,80 kg è stato il protagonista assoluto dell'asta internazionale del tartufo bianco a Roma se lo è aggiudicato per ben 200 mila dollari il miliardario cinese Stanley e ora è davvero tutto, il prossimo